Ci sono anche due pescheresi tra i sette arrestati nell'ambito di una vasta operazione della DIGOS di Torino in collaborazione con i colleghi di Pescara Roma Viterbo contro la Federazione Anarchica Informale. Si tratta di una coppia, Danilo Cremonese e Valentina Spezia, entrambi di circa 40 anni, che risiede da tempo a Montesilvano e gestisce un'attività improprio. Gente all'apparenza senza alcun problema, ben integrata nel tessuto sociale, ma che da anni collabora con la Federazione Anarchica Informale. Lui è già ristretto nel carcere di San Donato a Pescara, lei sarà trasferita nelle prossime ore in quello di Chieti. Con loro arrestate altre cinque persone, a conclusione di una complessa indagine della DIGOS di Torino nell'ambito dell'operazione denominata Scripta Manent contro la FAI, la Federazione Anarchica Informale. Ad eseguire le ordinanze di custodia è stata la DIGOS di Torino, coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione su disposizione della Procura della Repubblica della Capoluogo Piemontese. Alcuni di questi agenti sono a Pescara per collaborare con i colleghi della DIGOS del Posto, coordinati dall'Ella Di Giulio, anche per eseguire al meglio le attività di perquisizione tuttora in corso. In tutto gli indagati sono 15, di cui 7 arrestati, compresi i due abruzzesi. Il reato è di associazione con finalità di terrorismo e viene attribuito agli arrestati anche l'esplosione di tre ordigni. Uno presso la quartiere Crocetta di Torino, della 5 marzo del 2007, e due ordigni presso la caserma Lievi Carabinieri di Fossano, del 2 giugno del 2006. Gli ordigni in entrambi i casi erano programmati per esplodere a breve distanza l'uno dall'altro al chiaro scopo di arrecare grave danno all'incolumità delle forze dell'ordine intervenute sul posto. L'operazione trae origine dal procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Torino a seguito del ferimento dell'ingegnera Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, per mano di appartenenti al cosiddetto nucleo Olga, espressione del cartello eversivo FAI Federazione Anarchica Informale. L'indagine del poliziotti attraverso analisi di un'enorme quantità di documentazione ideologica ha permesso di ricostruire la struttura associativa e l'evoluzione internazionale della FAI. Le misure cautelari riguardano anche i militanti, anarchici Alfredo Cospito e Nicola Gai, autori dell'attentato all'ingegnera Adinolfi, condannati in via definitiva l'11 luglio 2014 in Cassazione. Al primo erano stati inflitti 9 anni, 5 mesi e 10 giorni, al secondo 8 anni, 8 mesi e 20 giorni.